Eccellenza, teologia dell'evangelizzazione. Cosa ha emerso nei lavori del Sinodo? Innanzitutto l'importanza della teologia per l'evangelizzazione. Si è sottolineato molte volte come la riflessione teologica sia fondamentale, come debbano esserci anche nelle facoltà teologiche studi dedicati alla nuova evangelizzazione. Ma questo soprattutto per un motivo semplice, perché la riflessione è ciò che dà fondamento e sostegno alla pratica, alla pastorale. Quindi più riflessione teologica e anche più efficace catechesi e azione pastorale. E oltre alla nuova evangelizzazione si deve parlare, si deve tenere presente, come indicava il Papa, anche la trasmissione della fede. Sì, l'annuncio della fede non basta. Bisogna essere capaci anche di trasmettere la fede in una maniera coerente. Ecco perché in tutto questo è importante lo stile della nostra vita. Noi dobbiamo essere fedeli nell'annuncio perché non annunciamo qualche cosa di nostro. Noi ne annunciamo di aver incontrato realmente Gesù Cristo, che è il senso della vita. E quindi lo portiamo anche a quanti oggi, e sono tanti, hanno la nostalgia di Dio. Ma l'annuncio poi deve essere anche una fede che viene partecipata e viene vissuta. Per essere vissuta c'è il momento della preghiera, quello dell'azione liturgica, e quindi la vita dei sacramenti, la vita della grazia. E questo aiuta ovviamente la nostra testimonianza. Senza un nuovo stile di vita, l'annuncio che noi facciamo sarebbe povero e poco efficace.